Ciao ragazzi, vi invio un piccolo esercizio da poter fare a casa, molto tranquillo. Usiamo sempre lo stesso ritmo, con cassa, charleston e rullante, ma come vedrete c'è una piccola particolarità. Ho spostato il timpano alla mia sinistra, a fianco al charleston. Non sono diventato mancino durante la quarantena. No, 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 è un esercizio molto utile per la mano sinistra, che ci permetterà comunque un movimento più fluido, anche in futuro su tutto il set, ok? Provo un buon allenamento con un esercizio semplice, con un ritmo molto semplice, che possiamo fare in maniera tranquilla. Ve lo faccio vedere come l'ho fatto io, ok? Provo un buon allenamento con un esercizio semplice, con un esercizio semplice, che possiamo fare in maniera tranquilla. allenarci il più possibile, va bene? Tanto, prima o poi, torneremo di sicuro a scuola a suonare insieme. Se avete qualche video, mandateli al maestro Marco e al maestro Antonella, così li posso vedere pure io. Poi, in automatico, loro lo gireranno a me. Va bene? Fate i bravi, eh? Ciao!